0 su 2, Molinaro rimbalza l'attacco, Sant'Angeli prende subito la tripla, la va a sbagliare, Udom tocca il rimbalza e Hall! Ferguson nell'angolo per Hall, si alza anche con Gasparina, tutta velocità, attacca l'area, poi va con uno, scarico fuori per Hall. Ferguson per Sant'Angeli, ancora in angolo, Mike Hall che spara la tripla nel lay-up sinistro, a mano sinistra. Mike Hall è liberato da Ferguson, queste partite da quando è tornato dalla 1 di Cantù. Allo scorso anno, proprio contro Jatzmar, Ferguson giocò una partita da 33 punti, Ferguson giocava a Verona. Adesso Hall fa spasso contro Jones, vediamo come attacca Hall in allontanamento per Sant'Angeli, si va da Hall che prova a giocare contro Benevelli, spalla canestro Hall, va dall'altra parte, questo è il tono anche dal punto di vista nervoso. Hall va ad attaccare Jones, Tomassini azzarda, ha un minimo di raddoppio. Hall va dentro, fino in fondo Mike Hall che va a schiacciare, Hall non azzarda il tiro da 3 punti, Hall va dentro, fino in fondo. Avanti Roseto, più 6, ottime notizie, vediamo come risponde Piacenza. Ancora Mike Hall da molto molto lontano. Caserta, si infatti un bel break per la formazione casertana. Velo di Ferguson contro Casella nel traffico, Mike Hall piedi per terra e la sua diestra. Quota 41, attenzione a Ferguson, gira bene l'angolo, poi scarica per Hall da 3 punti. Mike Hall si alza da lontano. Mike Hall spalla canestro, contro la donna luna, con subiganzo. Cerca in post basso Mike Hall contro Treyer, avvicinamento di Mike Hall. Serie di finte poi, se il giocatore è molto esperto saprà sicuramente gestirci. Se lui in difesa c'è, Sergio, qui cerca l'avvicinamento, Mike Hall. Vole mandarlo sulla mano a sinistra, Sergio. Ferguson, Hall, va ad attaccare uno contro uno. Adesso in possesso di palla, Hall, vediamo se riesce a trovare ancora un in... Ferguson, gli addosso Giordano, ancora Ferguson. Vedete che guardia eccezionale, gli stione per lui, non va. Rimbalzo ancora di Edioa che la butta fuori, Mike Hall. che va dentro, nell'angolo per Hall, da tre punti. Il numero 55 che va da piccoli, quattro secondi, deve tirare, Hall si butta indietro. In attacco. Sì, dall'altra parte la Sijeko abbastanza lenta, abbastanza compassata. Ormai i lunghi di oggi hanno quasi tutti in mano da quella distanza. E anche se non ce l'hanno, si sono allenati parecchi sul... Bellissima di Sabatini. Eh, sono nove assist, ma sta attendendo letteralmente quello che vuole. Ma acqua. È un giocatore... ...54, Casetta torna in avanti, punteggio alto allenante, 3.53 al termine. Michael, marcato da Paolo Paci, vediamo, tenta più spazio per arrivare sotto canestri. ...esterni, non solo negli Stati Uniti. Extra per... ...per poi concludere a canestro. Santiangeli per Hall... ...in angolo, si alza Valentino per avere la ruola. ...molto lunga, di Piacenza che alla fine trova un bantino. ...laggio di centimetri, poi Ferguson riprova la tripla e Hall conquista un ottimo rimbago. Davvero un inizio infuocato per la Sicilia con 6 su 6 da 3 punti, 2 su 2 da... ...grande canestro del giovane Mantovano, Sarto. ...per la ruola da 3 punti. ...potrebbe essere l'esordio in campo di Marco Ammannato a rinforzare questa formazione che ora trae l'infa vitale. Grazie.